Luce è arrivato qui nell'estate dell'86. Vorrei una camera. Venne a sapere la storia di Caruso. Caruso ti invaghisce di questa ragazza. L'immedesimazione, lo stesso terrazzo dove Caruso cantava Napoli che è di fronte. Lucio stava là. Stava al pianoforte. Mi ricordo la sua nuca e questa voce potentissima. Io in dieci minuti ho scritto una canzone. Per cui la casualità, tutto fuori che noi intendiamo casualità i grandi movimenti che ci sono sulla nostra testa. Lui aveva questo live molto bello registrato al Village Gate. Però mancava un tassello, mancava qualcosa. Per favore, se uscite, che dobbiamo cominciare. Il Village Gate di New York per Lucio era come, non so, come per un tenore andare alla scala di Milano. Viaggiavamo tutti su questo autobus che avevamo soprannominato Bus Springsteen. Ed era un'avventura. Finalmente eravamo a New York. Era la nostra mecca. Per suonare in un posto meraviglioso. Un tempio del jazz. Un piccolo club, ma un grande club. Fu un concerto veramente bello. Bellissimo. Vedi caro amico, cosa ti scrivo e ti dico E come sono contento Di essere qui in questo momento Thank you very much. Thank you very much.